Musica Lavori a Sassonia di Fano, Brunori replica a Fratelli d'Italia e rassicura l'area verde e quella del Rastat saranno pronte per il mese di giugno, Giale Battisti invece per i primi di maggio A Pesaro l'incontro con l'attivista per i diritti umani Olga Karac, il presidente della provincia Giuseppe Paolini commenta è un evento molto importante per la comunità Realizzato su una facciata di 14 metri per 19, il murale dedicato all'artista Anselmo Bucci e il Giro d'Italia è stato inaugurato Ora fa bella mostra di sé in piazzale Giansanti a Fossombrone Il progetto 50 per 50 capitali al quadrato di Pesaro 2024 fa tappa a Fano Tanti gli appuntamenti in programma dal 3 al 10 marzo L'Alma Juventus Fano solleva dall'incarico di responsabile dell'area tecnica Giuseppe Di Conzo Invece il mister Cornacchini rassegna le proprie dimissioni Manolo Manoni il nuovo allenatore Stasera una nuova puntata di Guarda Chi C'è Ospite l'ex ispettore di polizia Susanna Gaudenzi chiamata la signora delle bambole grazie al suo progetto Le Giugiole by Susi Benvenuti cari telespettatori di Fano TV Questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Apriamo con l'intervento di riqualificazione sul lungomare Sassogna di Fano Dopo le preoccupazioni espresse da fratelli d'Italia Oggi l'assessore Barbara Brunori ha confermato la fine dei lavori per il mese di giugno E dunque per la prossima stagione turistica Per quanto riguarda l'aggiornamento dei cantieri sul lungomare Ci tengo a precisare che sono sotto controllo da parte dell'amministrazione da sempre Abbiamo avuto un ritardo che avevo motivato mesi fa rispetto alla qualità dei materiali che si dovevano lavorare Oggi stiamo lavorando con grande celerità con questa sequenza Perché ricordiamo i cantieri sono due Uno è il waterfront che si appresta a lavorare sull'area del rastat, sul cristallo Ma anche di fronte a quelle che sono le attività di ristorazione e bar E l'altro invece è quello in Viale Battisti Allora partiamo proprio dal waterfront Dopo aver demolito quello che era appunto la vecchia gradinata Adesso stiamo lavorando sulla nuova All'interno della quale verranno realizzati dei vani tecnici e vani di servizio Nonché una vasca di laminazione che sarà propedeutica a tutto il discorso della fontana Che verrà realizzata invece nell'area davanti al cristallo Quindi non appena verrà appunto realizzato tutto questo vano Andremo a ricostruire per poi lavorare su quelle che sono le nuove pavimentazioni e le rifiniture Contemporaneamente, adesso nei prossimi giorni, quindi da qui a brevissimo Andremo a iniziare i lavori anche proprio sull'area del cristallo Dove appunto verrà smantellata la pavimentazione Realizzata la nuova fontana con giochi d'acqua e di luce Per cui la vasca è invece inserita sotto la gradonata nuova in prossimità del rastat E la nuova area bosco Tutto questo naturalmente dovrà essere rigorosamente pronto per giugno Per far sì che la città affronti al meglio la stagione turistica Una volta che vengono fatti i sottoservizi poi lavorare sopra non sarà assolutamente difficile Per quanto riguarda invece la sezione davanti, le ristorazioni e i bar Quindi di congiungimento a questo snodo con Viale Battisti In quel caso abbiamo avuto delle nuove richieste da parte della canteristica navale Per il passaggio ricordiamo delle grandi barche, imbarcazioni, quali i catamarani Che hanno delle misure molto importanti E alla luce di queste migliorie che ci sono pervenuti in questi giorni Proprio questa notte faremo una sperimentazione Per poi andare a definire quello che sarà sicuramente l'intervento Con delle leggere modifiche E condividerlo con gli esercenti che chiameremo qui in comune Proprio la prossima settimana Per condividere insieme la strategia Senza avere nessun tipo di sorpresa E proprio per arrivare ad un obiettivo comune Oltre questo abbiamo in campo quello che è il cantiere di Viale Battisti Invece è sicuramente molto più avanzato Come vedete abbiamo smantellato tutta la pavimentazione sul controviale lato Marotta E entro metà fine marzo Termineremo anche la pavimentazione adiacente al cavalcavia Una volta realizzata questa scenderemo per continuare a lavorare sul controviale Dove è prevista una nuova pavimentazione di ceramica Ci sarà anche la realizzazione di una pista ciclabile invece che verrà fatta in asfalto Dei nuovi arredi L'illuminazione avremo sicuramente dei punti luce come quelli che sono stati realizzati Ma dall'altra parte del controviale Verranno poi inseriti degli arredi Rifaremo un nuovo manto di asfalto ulteriore Perché quello che avete visto realizzato adesso è una prima soletta Binder così chiamato E successivamente appunto lo andremo invece a stabilizzare Con una portata più importante e stabile Perché il carico di auto essendo a doppio senso di transito Necessita naturalmente di un sostegno importante Ecco che per fine aprile 1 di maggio Viale Battisti sarà pronto E ora una notizia che in tanti aspettavano da tempo Sabato 2 marzo alle ore 10 aprirà il nuovo centro natatorio di Fano Maggiori dettagli verranno forniti domani mattina Durante una conferenza stampa convocata dal comune di Fano Tappa a Pesaro per Olga Karac L'attivista bielorussa per i diritti umani Recentemente insignita per il premio Langer 2023 Ha sostenuto oggi un incontro pubblico nel palazzo della provincia di Pesaro e Orbino Avere Olga qui che ieri sera oltretutto era accennato a casa mia E abbiamo scambiato alcune parole con mia moglie Che è rimasta molto colpita anche dalla giovanità di Olga Ed è tutto quello che ha fatto E che arriva a Pesaro subito dopo essere stata insignita e premiata a Palazzo Chigi a Roma Per il premio Alex Langer Alex Langer che è a Isola del Piano comunque ha lasciato più di un segno Perché io mi ricordo che quando noi eravamo a Montebello Insieme a Gino Girolomoni Con la cooperativa Girolomoni Alex molte volte Insieme a altri amici è venuto a trovarci a Isola del Piano Abbiamo passato dei momenti fantastici e interessanti E Olga è una ragazza Una ragazza possiamo dire Perché ha l'età di mia figlia Per cui una ragazza che lotta Una ragazza che ha subito anche delle torture E che è in esilio E che venga premiata con questo premio Alex Langer Secondo me è un segno che l'utopia Chiamiamola L'utopia, il sogno che aveva Langer Ancora continua Ed ha sparso semi in tutto il mondo Ed è una cosa veramente importante per noi Perché dovremmo tutti Sono convinto vedendo l'uditorio Che tutti sanno di cosa si parlerà Però se ognuno di noi Prende da questa giovane ragazza Quello che viene chiamato il virgulto Il seme E farlo germogliare Ognuno di noi stasera sarà più ricco Dal 3 al 10 marzo Il comune di Fano sarà protagonista Di 50x50 capitali al quadrato Il progetto simbolo di Pesaro Capitale italiana della cultura Servizio di Marco Lonigro Si chiama naturalmente culturali Ed è il titolo del ricco programma di appuntamenti Per la settimana di Fano In 50x50 capitali al quadrato Il progetto simbolo di Pesaro 2024 Che vede i 50 comuni Della provincia di Pesaro Urbino A turno capitale per una settimana Lungo il 2024 50x50 sta funzionando benissimo I comuni stanno facendo Tutti dei programmi veramente stimolanti Innovativi Che coinvolgono la cittadinanza Che coinvolgono le realtà culturali Che coinvolgono anche il pubblico Che viene da fuori In questo quadro è chiaro che Fano non è un comune come gli altri Nel senso che è la seconda città della provincia La terza delle marche Soprattutto è stata anche l'ultima finalista regionale Prima della vittoria di Pesaro Nelle competizioni degli anni precedenti Grande opportunità per Fano Come avete accolto il progetto 50x50? L'abbiamo accolto benissimo È una grande occasione Ringraziamo Pesaro Perché si apre un intero territorio E quindi cerca di rispondere degnamente Abbiamo fatto in modo di avere eventi e iniziative Che parlassero di quello che siamo da sempre Ma anche di quello che vorremmo essere Perché questo deve essere capitale della cultura L'occasione per rilanciare Per far partire nuovi progetti Oltre 60 gli appuntamenti in calendario Per un programma ricchissimo Che spazia tra arti, ambienti, archeologia Ma anche presentazioni editoriali E laboratori per grandi e bambini Ci aspetteranno visite accompagnate alla Fano romana Potrete vedere le bellezze dei nostri monumenti Ascoltare concerti grazie al coro gospel Grazie all'orchestra sinfonica di Rossini Tante conferenze, presentazioni E in più a fine di questa settimana Ci sarà il festival di economia circolare Che per il primo anno arriva a Fano E sarà il primo di una serie di anni Grazie alla collaborazione con le associazioni Con le imprese, i consorsi Tutta la realtà di Fano e del territorio Parla di ambiente Perché? Perché Fano si basa proprio su questa lezione Grazie a Vitruvio che 2000 anni fa Ci ha fatto capire che cultura e ambiente Devono assolutamente essere collegati Per un sviluppo ottimale e sociale E questo è anche il focus di Pesaro Capitale Che si chiama la natura della cultura Quindi più di così Dal 4 all'11 marzo a Fano ci sarà tantissimo Vi potete stabilire nella nostra bellissima città Perché non avrete un minuto libero Interessanti gli appuntamenti del prossimo 8 marzo Eventi che ruotano attorno alla marineria Un tema caro alla città di Fano Due appuntamenti che hanno alle spalle Una ricerca di oltre un anno e mezzo Partendo dal libro marinaresco Romanzo marinaresco di Giulio Grimaldi La Maria Risorta Quindi alle 18.30 dell'8 marzo Al Fogliere Teatro della Fortuna Presenteremo appunto questo Invece la sera alle ore 21 Ci sarà uno spettacolo Curato da Carlo Simoni Accompagnato dal coro polifonico Malatestiano Di una rivisitazione di questa storia Della Maria Risorta Della dimensione del mare E soprattutto nel protagonismo Delle donne della marineria Che hanno sorretto in modo Diciamo così silenzioso E molto spesso non troppo raccontate La comunità del porto La comunità marinara E intere diciamo generazioni Di figli cresciuti da sole Quindi l'8 marzo lo aspettiamo a Fano Il 13 marzo Alla Memo di Fano Prenderà il via Eutopia Più saggi con i classici La rassegna dedicata al dialogo Tra antichità e contemporaneità Vediamo Settima edizione Un traguardo importante Per una delle manifestazioni A cui sono più affezionato Perché Eutopia Nasce da un incontro molto felice Tra il sistema bibliotecario Del comune di Fano E il liceo Nolfi e Polloni E in particolare Con gli insegnanti e gli studenti E gli ex studenti Sottolineo Di questo liceo Che nel corso di questi anni Sono stati veramente Cuore e anima Di questa manifestazione Che mettendo ancora una volta Anche in questa edizione In dialogo Antichità e contemporaneità Rida voce ai classici Del mondo antico E ovviamente Tre appuntamenti Anche quest'anno Proprio per poter Mettere a disposizione Della nostra città Un'offerta Che è veramente Di altissimo profilo Gli appuntamenti saranno Il 13 e il 26 di marzo Ultimo appuntamento Il 4 aprile Sempre alla Mediateca Montanari Noi siamo anche Un liceo classico E avvertiamo E con il piacere Ma anche il dovere Nella città E nel territorio Di essere un punto Di riferimento Per il dibattito La riflessione Sui temi Della cultura classica E per noi Oltre che Un piacere Ripeto Un impegno Di tipo anche civile Oltre che culturale Scolastico Sul quale vogliamo Continuare ad investire E anche nel futuro Quest'anno abbiamo scelto La tecnica E lo sguardo Che gli antichi Hanno avuto Sulla tecnica Un argomento Quindi che si Che dialoga Tantissimo Con la nostra contemporaneità Cominceremo Con una carrellata Sulle macchine Nel mondo antico Dalle civiltà mesopotamiche Alla Roma imperiale Verrà ospite Giovanni di Pasquale E appunto Sarà Un'occasione importante Per riflettere Sulla macchina Sul ruolo Che gli antichi Attribuivano alle macchine Poi Il secondo appuntamento Sarà tutto al femminile Sarà dedicato A questo libro Le tessitrici Mitologia dell'informatica Con Loretta Minutilli Che ci parlerà Appunto Della mitologia Che Così viene Ad essere Presente Nelle vicende Di scienziate Che si sono Appunto impegnate Nel mondo Dell'informatica Della scienza E quanto Gli archetipi Antichi Legati appunto Alla tessitura Alla figura di Atena Alla figura Della dea Appunto Della tecnologia Sono rimaste Permangono Vive Nel mondo Della scienza Contemporanea Infine L'ultimo appuntamento Sarà Quello dedicato A Lucrezio In particolare Allo sguardo Che Lucrezio Ha avuto Sulla tecnica E sull'evoluzione Dell'umanità Dal Come dire Da un'epoca primordiale Fino ai giorni Appunto Dell'epoca di Lucrezio Con Ivano Dionigi Ieri pomeriggio A Fossombrone È stato inaugurato Il maximurale Dedicato al pittore Di fama internazionale Anselmo Bucci E al Giro d'Italia Inaugurato Alla curva di Wilson Il maximurale Dedicato al Giro d'Italia E ad Anselmo Bucci Che i due artisti Andrea Larocca E Erika Cogato Hanno realizzato Sul fianco Delle case popolari Che affacciano Su piazzale Gian Santi A Fossombrone Un omaggio Alla grandezza artistica Del pittore Incisore E scrittore Di fama internazionale Anselmo Bucci Si tratta Della riproduzione In grande Di uno degli schizzi Dal taccuino Dell'artista Forsempronese Giro Del 1936 In cui è raffigurato Gino Bartali Sul Gran Sasso L'opera è stata realizzata Su una facciata Larga 19x14 metri Con lo spruzzo Di vernici Per esterni Al quarzo Con la tecnica Della quadrettatura Per riportare Un'immagine piccola In uno spazio anche molto più grande Come in questo caso Gli artisti hanno reso L'effetto di sveltezza E immediatezza Dell'acquerello E hanno fatto tutto a mano Senza effetti speciali digitali Un omaggio a un artista Che ebbe un ruolo importante Nel Novecento E una celebrazione Del suo profondo legame Con la sua città natale E con il mondo del ciclismo Ma non si tratta solo Di un abbellimento Degli spazi urbani Dedicato a Bucci E dalla tappa Del Giro d'Italia A Fossombrone Ma anche Della riqualificazione Della zona Sindaco Un murale importante Per ricordare Anselmo Bucci E il Giro Sì credo che per ricordare Anselmo Bucci E' già fermamente Impresso In tutti In tutti i cittadini Fossombrone Che orgogliosamente Hanno avuto Come cittadino Come una persona Che ha frequentato Moltissimo Poi nel resto della vita Fossombrone E' anche un ricordo Indelebile Quello che è stato La tappa del Giro d'Italia Quindi In qualche maniera Abbiamo pensato A questa cosa Come un atto dovuto Per i Fossombronesi stessi Una riqualificazione Importante Per questo tratto Di una via principale Di Fossombrone Oggettivamente Noi siamo partiti Con la realizzazione Del murales Che rappresentava L'evento Del 13 maggio Del 2023 Per quanto riguardava Il Giro d'Italia Che la tappa L'ottava tappa Che i Raterni Fossombrone Poi però Abbiamo nel corso d'opera Chiaramente investito Diverse risorse Per riqualificare Anche tutta la rete fognaria Dell'intero palazzo Che erano oltre 40 anni Che non aveva Una rete fognaria Collegata A quella principale E soprattutto Anche per riqualificare Tutta quella parte Che riguardava il giardino Che era in condizioni Veramente precarie E lasciate nel più Completo abbandono Anche perché Secondo la logica Di questa amministrazione E cercare di far star bene Anche persone Che hanno Delle difficoltà economiche Che abitano Nelle proprie abitazioni Del comune stesso Però non per questo Devono vivere In condizioni Di non decoro E di non tranquillità E anche pulizia Raccontateci La nascita di quest'opera Che proviene Da un taccuino Abbiamo preso ispirazione Da un taccuino Di Anselmo Bucci Che ci è sembrato Particolarmente interessante Perché riprendeva Perfettamente Il tema del Giro d'Italia E abbiamo pensato Di rendere omaggio Alla città di Fossombrone Riproducendo L'opera Ad acquerello Di Bucci È una tecnica Inverosimile Nella sua esecuzione Nella difficoltà tecnica Perché riprodurre Un murales Cercando di ispirarsi Alla tecnica E anche Alla manualità Di un artista Che nel disegno Aveva un esito felice È stato anche arricchente Perché siamo riusciti Fondamentalmente A riprodurre Attraverso L'utilizzo Dei colori al quarzo L'utilizzo Appunto Di questo colore Ci ha permesso Di avere una freschezza Nell'immagine Di quest'opera Quanto tempo Ci avete messo Per realizzarlo? Un paio di settimane In un paio di settimane Si è riusciti a fare tutto Bella soddisfazione Sì è stato un bel progetto È stato avvincente Anche portarlo a termine E rendersi conto Di essere riusciti Comunque a dare Questo effetto Un po' delicato Un po' sfumato Dell'acquarello originale Nonostante sia una tecnica Completamente differente E su una parete Così grande Insomma La società Alma Juventus Fano 1906 Oggi ha comunicato Di aver sollevato Dall'incarico Di responsabile Dell'area tecnica Giuseppe Di Conzo E che il mister Giovanni Cornacchini Ha rassegnato Le proprie dimissioni Dal ruolo Di allenatore Di prima squadra Nel tardo pomeriggio Di oggi È stata poi annunciata La nomina Del nuovo allenatore Che è Manolo Manoni Lunedì prossimo A Primo Cittadino Sarà ospite Il sindaco Di San Costanzo Filippo Sorcinelli Dalle ore 19 Potrete intervenire In diretta Telefonando Allo 0721 86 14 33 Oppure Inviando Un messaggio Su Whatsapp Al 338 49 68 250 Il nostro Telegiornale Termina qui Tra poco Andrà in onda Una nuova puntata Di guarda Chi c'è Con l'ex Ispettore Di polizia Susanna Gaudenzi Chiamata La signora Delle bambole Per il suo progetto Le giugiole By Susi Seguirà poi Uno speciale Sul convegno Marche Apicoltura Apicoltura Grazie Per essere stati con noi Vi auguro un buon proseguimento Con i nostri programmi Arrivederci Per il suo progetto